Sto direi cose Ah no stai ancora carino Ma si sente bene così? Secondo me si dà i miei cuffie Ah ok Ciao creatora Siamo in compagnia di Yak Ciao Abbiamo tenuto da parte Delle missioni Da fare insieme Con la O Possiamo andare a richiedere L'oggetto a Yak Richiedi oggetto Quanti me ne servono di aglio selvatico? Due E me ne fa chiedere uno solo Giustamente Vabbè Aglio selvatico richiedi oggetto Ma forse lo richiedi Lo richiedi due volte Ecco Ho fatto due richieste Caso me la faccio io Te la spedisco Nel frattempo Mi è arrivata una Lettera in inglese Che non ho letto Ma ho accettato una missione Perfetto E mi ha dato Parlate con Parlate Mi ha dato lei Con Assion Della sua lettera Vabbè Tu ce l'hai quello? Si me l'ha data La lettera Perfetto C'è la missione Perfetto Sì Possiamo fare anche quello E l'ho Zuppa di verdure Sostanziosa Lo richiedo Eh Quanta ne richiede? Una Perfetto Perché ne ho tre Se non la facevo Così anche Vedete come Si Richiedono E si scambiano Gli oggetti Perché è bello Di giocare Con un amico È che Si può aiutare Anche in quel modo Almeno Noi facciamo così Davvero non so gli altri È arrivato Sì Eccolo qua Tra l'altro La mia camera È ancora Fatta ancora meglio No Ho lo skateboard Paccato Comunque Non si può usarlo È solo di bellezza E non si può neanche appendere Al muro Quindi io Non ti consiglio Di buttare i soldi Come ho fatto io Quando gli ho dato La sardina N'ha detto Che ne aveva Proprio voglia Che Perbante No Non ce l'ho Ovviamente Vabbè Iniziamo Esco E andiamo A fare le missioni Sennò Quasi perde tempo Andiamo Prima Da Eloisa Sì Ok Andiamo Da Eloisa È di qua Mi son già Persa Ragazzi Eh Devi Ecco Di qua Eccola Oh wow Questi sono fantastici Le mie scoperte Sul campo Non sono state Altrettanto Avvincenti Le dispiace Se li tengo Per un po' Per fare qualche Esperimento Meglio Tu che io Dove li Tenete Assolutamente Tenetemi Aggiornato Perché nessuno Di loro Si faccia Perché Perché Faccio Assolutamente Dele Aggiornato Ah Anche tu Sì Certo Siamo Partner Del Paranormale Ora In tutto E per tutto Mi ha dato Dimmi Mi ha dato Il parattolo Di Luminoso Vi informerò Di eventuali Scoperte Occulte Non appena Si concreterizzaranno Se vedi Una razza Del tramonto Familius Ma dove Le ha viste Ste qua Vuole Gli ho chiesto Che cosa vuole Una razza Del tramonto Che cacchio Vabbè Oh Io non mi potrei dare Al cervo volante Serrio Opino Metto opino Se solo qualcuno Avesse aperto Una cosa De genere Oh no Aspetta Mi sta dando Le altre cose Pensi davvero Che alla gente Piacerebbe Cosa Non ho letto E sono andata Avanti Stavo ascoltando L'accademia Si arricchirebbe Ho davvero Bisogno Di un posto Dove mettere Le mie cimici Scommetto Che Caleri Ti chiuderebbe Alla La gente Piacciono I musei Il mistero Metto questo Anche se mi piacerebbe Mettere Ho davvero Bisogno Di un posto Dove mettere Le mie cimici Vuole fare Un museo Vabbè Non ci interessa Perché noi Siamo Eguisti Apparattolo Ronzante È il mio Primo ASMR Infatti Vai con Meno Emozione Meno Enfasi Prova Serve Per Perfetto Ti permetti Di individuare Gli insetti Rari Per 15 Minuti Vabbè Sprego Che sprecherò Subito Ma che bellina Questa Con questi capelli Ma è bellissima Che belli Quei capelli Poi il rosso Viola Ci sto Di merda Sto scherzando Allora Adanaio Andiamo Ah c'è già Il pelatone Andiamogli già La zuppa Andiamogli la sua zuppa Sono onorato Della vostra Generosità Guardate Che c'è Yuck Dietro Che Sbola Guarda Come gira Saluta Anche Saluta Yuck Gira Mi fa Vado Gritto E si plana Spero che l'audio Sia buono Più che altro Ecco te Questo l'aglio Spero anch'io Che si senta Più che altro Non vorrei che si sentissero Troppo i rumori Del gioco E Quello Magari Devo Stiglio Ara Non passa mica Dal cancello E lui Io salvo Fa l'olio Cuore Il duro lavoro È già Di per sé Una ricompensa Ma anche vederti Lo è Scusa Sul serio Wow È sempre Tutto bello Fresco Perfetto Ecco te Grazie Dico sul serio Ce ne fossero Di più Di vicini Come te Scusa Vi farò sapere Come va Il concorso Vittoria Per tutti Ed ecco Prendete questi Sempre il vostro disturbo Vediamo cosa vuol dire Scusa Lavoro Non mi rimane Molto tempo Per la pesca Certo Andiamo da Assian Che penso sia Dove c'è il mare Tipo Non il mare Sì il mare È Bari È Bari Ok Andiamo Ci andiamo camminando O ci sparaflesciamo lì Vuoi Scegli Se vuoi far vedere Un po' in giro Allora andiamo lì a piedi Tanto non è lontanissimo R Mi servirebbe anche Ciò che ci andiamo Nel ferro Ah sì Perché sto costruendo I mobili Quelli Industriali E c'è quello in ferro È Nella missione Di Tish Ah Sempre comodo Cosa? Io Prendo perché Fanno sempre comodo Ok Perfetto Menti qua Che non ho occhi Sta dormendo Ovviamente Ma non ci interessa Perché noi andremo A parlargli comunque Sì Vediamo se Mentre troviamo Anche del ferro Non sarebbe male Ti ho perso Ecco Ma si può entrare nel bosco Ma da quando? No 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 Ma c'è Chi è Dao? No Ha il cane Ha il cane Cos'è che Dovamo fare La missione speciale? Eh Non ho capito Ma dobbiamo fare la missione speciale? Eh Mi dice Parlate con Asian Della sua lettera Eh Proviamo Ok Parla veloce Ho saputo che hai Una missione speciale Ero ora che ti facessi vivo Tau Ma che in inglese Ah Dai Ischia Ah dai I'd like you to find out where he's going Allora Mi ha con il mio accento veneto Allora Hai provato a chiedergli al pure Indovino Hai bisogno Di un vero cacciatore Tu Per Provarlo Insomma Tracciarlo Proviamo questo Ah Dai Va bene Sì That's the first good joke Ah È la prima Cosa divertente che ho detto No Grazie Allora No Lui mi dice sempre no Eh Vabbè Che la L'area dove cercare È Troppo larga Grande Diciamo Ah Inizia dal suo campo E A lui piace Stare lì Nella notte Allora Io scelgo Mi sono accettata Deve essere importante Quello che sta cercando Tao E Vabbè Gli aveva insegnato Non andare in giro Solo Credo fosse Quello il significato Quando ce l'hai Poi porto La mia madre Vabbè Vabbè Insomma Non ci interessa Quindi mamma Ante Non sto Prendere Vediamo cosa vuole Di premio Qualsiasi cosa Tu abbia Intenzione Di fare Non prendere Aciughe A mia madre Lei Le ama Ma io Ne odio L'odore Allora Le l'arcalerò Sicuramente Dicono Perché Antipatico Dicono Che c'è Una creatura Che si aggira Nel bosco Di Sambuco Oltre Bari Una volta L'avevo avvistata Ma guardandola Non sono riuscito A scoccare La mia freccia I suoi occhi Mi sembravano Stranamente familiari E quindi Se vuoi mettere Il segnalino lì Andiamo In quella zona Però lo sai Che io Non riesco mai a capire Dove si entra Ah già Quindi Sago te Io ho Le mappe Proprio Anche no Teoria è dritto Andiamo Andiamo Let's go Comunque Il cane è sparito Lui è lì che dorme Sì Infatti Ma così Pronto Oh no Si è pagato Adesso cade Per un pelle No C'è per fare Devo aspettare Che mi si ricarichi Io vado su Quanto potevo andare Di fianco Dove sei E' stato C'è un altro Oaglio Ah c'è il ferro Qua Eh sì Ok noi ci planiamo Everywhere Perché è divertente Per di te Ok Sto aspettando Yuck Ok di quasi Sto seguendo Sto seguendo La tua freccettina Verde Io C'è del ferro Qua Ah ok No era una domanda Non so se c'era Oh No non c'era Scherzo Ma è tutto bene E Si va di qua Giusto Non seguirmi Se sai che non è la strada Sbagliata No no è giusto Ok 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 Se vi piace camminare Questo è il gioco per voi E' un stimolatore di camminata Esatto Spero che ci facciano qualche animale Tipo Da cavalcare Che si può arrivare più velocemente In posto In realtà si può Cos'è questa scia Un fungo Qualche animale Non solo che n'atta Che bestia è quella Cos'è La ma Cosa Presa Quella lì che voleva Che n'atta Si Che n'atta Potrebbe servire Lo dico io Che perdo tutto Eh Di qua Ho già perso Dico Il ferro no Non è pietro Eh Allora Se non vi siete Trovato Ti mettete like Grazie Eh No vieni giù No vieni su Vieni qua C'è una cosa Ho trovato Una rotta del carro Hanno Hanno messo queste cose E ci sono delle impronte Ah le impronte Le tracce Segui le tracce Infatti Dice Ah si Di qua si Andiamo Di qua le tracce Andiamo No Sono di qua Guarda Dove Di qua Ok Quindi sono già D'andare di quasi Ok Ah giusto 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 Giustissima Ecco le tracce Ecco Di qua Ah eccoli anche di qua Eccoli qua C'è anche qua da scavare Da scavare Vediamo cosa ci regala Una gencide Sfertilizzante Vabbè Poi Però la rotta Mi serve per la missione Quindi ok E qua Allora qua ci sono delle tracce Ma sono i miei piedi Qui ci sono le tracce Che vanno di qua Quindi secondo me Potrebbe essere Verso questa Eccoli qui Le tracce Trovate Qua sopra Poi si proseguirà Di qua E vediamo un po' Dove potrebbero essere Non trovo più tracce Qua non ci sono Tu ne vedi altre Si fermano qua Praticamente Qua sopra Si fermano qua Però non rite Non rite di qua A mandare un po' Di qua No Eccole Hai trovato Eccole Bravissimo Allora Di qua c'è qualcos'altro Che brilla Da raccogliere Che cos'è Frammenti di nave Frammenti di nave Ci servivano Ottimo Poi Hanno aggiornato Mettendo tutte le cose Che vivono Eccole Tracce Questa porta Ha già aperto Ecco Cosa c'è Ecco Eccolo Eccolo Il flickering Flow Qualcosa Che non so cosa sia Facciamo il viaggio rapido Ok Però andiamo Dobbiamo trovare il coso Per fare il gioco Ecco Ecco Vediamo se si può tagliare Di qua E incastriamoci Dentro la roccia Please Ecco Ho catturato L'aranapiscatrice mutante Con il vermetto normale D'accordo Riusciamo Proviamo Proviamo La salita Ah il Kaiser Venga 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 E ormai Potrei farcela Potrei farcela Ce l'ho fatta Da che parte Ci sono questi Kaiser Che adesso L'avete visto Già attivato Ma in realtà Sono tipo Bassi Poi quando Entrate Dentro questo Kaiser Ho fatto Telle pollicine E poi Ti sparo su Sempre In alto Io vabbè Mi sparo Sempre troppo in alto Perché sono troppo magra Evidentemente Anche nei videogiochi E poi Aspetate L'ho perso L'ho perso Il simbolino Forse sei sopra Non dove sei L'ho superato Sono qua Mi vedi? Ah ecco Ti stavo guardando in alto Quale Quale prendiamo? L'unico Scuderia centrale Primo Il secondo Perché il primo E poi è a casa Eh sì Il secondo No no Ok Ok No per non sbagliare Ho chiesto Per quello Il secondo Non perché sono Pignola Comunque pagando 25 di oro Monete Non reali Cioè Non sono soldi veri E ci Proietta Diciamo Ci teletrasporta Direttamente In un punto Della mappa Invece Ti fa tutto il giro Per tornare indietro Anche Sì Forse Lo so Di veri No Andrei a piedi Eh Ok Allora Tra l'altro Dice che Sì Fui qua No è qua Sì Mi sto facendo Non sono da sola Mi sta venendo La biocco Che spadiglio Allora Andiamo di qua Eccola Eccola E lei è la mamma di Asina Quello che ha perso il cane Praticamente Per spiegarvi Ok Parliamo C'è qualcosa Con cui Posso aiutarti Can you fix This battery Non puoi giustare Questa batteria Wow Perché metà Inghilese Metà in italiano Sto missione Questa è una Una di quelle Vecchie Batterie Umane E cosa Cosa stai facendo Con questa cosa Daul Ha trovato Ha trovato Una porta segreta In Bari Bay E che forse Possiamo aprire Ecco Adesso dice Una porta segreta Come facevi a sapere Che amo i segreti Ne parlo sempre Adesso In inglese Di nuovo Ok Andiamo qui Nelle fogne E adesso Vediamo Che cosa Vendono Qui Allora Vendono Una vasca Da bagno Per Industrial Potremmo farci Il bagno Effettivamente Poi Il bagno Intendo La stanza Da bagno Cornice Grande Corzia Antica Carina Poi questo Cornice Scenica Di fortuna Ma ti danno anche Il quadro Spero Questo tappeto Capanna Di legno C'era anche Il water Mi ricordo Da qualche parte Non vendono Più il water C'è un libro Da leggere Qua Una ricetta Cioè Questo tappeto Molto bellissimo Questo Un giorno Me lo comprerò E io mi metto Centrata Sei sparito Yak Ti hai Buggato Ok Adesso ci sei Nessuno è riuscito A sersi bene Comunque No Quello lì È centrato Quello affatto Mannaggia Non mi piace Così Ma perché Anche se Beh è già meglio Di prima Dai Sono seduta Su una Ah lui Com'è fatto È il perfetto Andiamo così Non mi piace Siete sempre a lato La mia tua È perfetta Così Ehi Devi spostarti Un po' a lato Dove Non va Qui dietro Vediamo Beh dai Già meglio così Però Sono sempre un po' Storta Ai secchi Allora è arrivato Aspetta Aspetta Non hanno fixato Quella cosa Del Del sedersi Però Che ho detto Che fixavano No L'ho comprato Per sbaglio Hai niente di interessante Da raccontarmi Can we talk about Something Magical Parliamo Ragazzo Vabbè Ricordati Ricordati che Mi faccio Pagare A ore Tutto è iniziato Quando sono immerso Da ad un vuoto Si for Se you can fix Mettiamolo subito Pagato A ore Meglio Stare Reassuntivi Sembra sicuro Molto sicuro If you need to fix That bad boy Up You will need My help Ok Abbiamo bisogno di un suo aiuto Per raggiustarlo E ho appena scoperto Che devo rinnovare La mia assicurazione Sulla vita Dai Fallo per me Per favore Si for Se you Si for Ci ha detto Di dirgli Che Lui Le deve un favore Calmati amico Ti sto solo tirando La coda Che non abbiamo Ah Perlomeno io no Forse yak Allora Abbiamo Fatto Diciamo La La quest Però alla fine Ce ne ha aperte Altre 100 Perché abbiamo Un pellegrinaccio Trovo Una pietra Del flusso Ah Il flusso Va bene Allora Spero che questo video Vi sia piaciuto Faremo Il continuato Non al prossimo video Quindi mi raccomando Iscriviti Seguimi Per Attivare la campanella Per restare aggiornato Delle nuove missioni Che dobbiamo andare a completare insieme Io ti auguro Buonanotte Buon relax Ciao creatora Ciao yak Se vuoi salutare Nel video Ciao Ciao